Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Come ogni anno di consueto, anche quest'anno farò un video riassuntivo di quello che è stato il 2022. L'anno scorso l'ho fatto ovviamente per il 2021, però quest'anno, a differenza dello scorso anno, vi do un po' di numeri. Sono veramente contento e molto molto fiero dei numeri che vi sto dando. Sono quelli relativi alla crescita del blog e del canale YouTube. Per uno che lo fa solo per passione come me, nel senso che non è il mio mestiere, ecco, sono numeri di cui posso andare fiero e devo ringraziare voi per questo, perché senza di voi ovviamente quei numeri non ci sarebbero. E questo mi sprona a investire più tempo nel limite del possibile e più risorse per avere contenuti migliori, ma ve ne parlo nel corso del video. Ci vediamo dopo la sigla. Partiamo dal mio orto. Quest'anno è stato un anno incredibile perché sono passato al NoDig e quindi tutto ciò che non mi veniva gli scorsi anni, quest'anno mi è venuto magicamente. Guardate questo cavolo nero. Io belli così non ne ho mai visti, almeno nel mio orto. La bellezza del NoDig appunto è che non richiede molta manutenzione, ci sono poche erbacee, erbe infestanti da eliminare e soprattutto, visto che si usa il compost, non si usano più concimi chimici e non, quindi anche lo stalatico pellettato, non utilizzo più niente. Continuo solo a utilizzare qualcosa per quanto riguarda le lumache e la cavolaia, per il resto non utilizzo più niente. Tralascio l'orto estivo perché quest'anno non è stato un gran che, perché veramente ha fatto molto caldo. Anche se ho risparmiato l'acqua con irrigazione a goccia, comunque ho avuto grossi problemi di siccità. Quello che mi sta dando molta soddisfazione quest'anno è l'orto invernale. In queste immagini vi faccio vedere qualcosa dei miei cassoni, sempre lo dico. Ovviamente queste sono le insalate, poi abbiamo tutta una serie di broccoli, cavoli e quant'altro, finocchi. Quest'anno insomma è stata un'esplosione di colori e di vegetazione. È stato tutto molto bello, è venuto fuori anche abbastanza facilmente, non ho fatto grandi lavori. Quindi tutto ciò che è venuto è stato in più e questo mi ha dato veramente molta soddisfazione. Cambiamo decisamente il registro e quest'anno ho trattato molto sul mio canale tutto ciò che riguarda la biomassa, complice anche un discorso geopolitico veramente devastante, per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dei sacchi di pellet e del metano, che hanno messo in ginocchio molte famiglie italiane, moltissime. Io utilizzo il nocciolino di Sansa Vergine da molti anni, quindi per me non è stata una novità utilizzarlo, continuare ad utilizzarlo, però mi sono concentrato sul divulgare un po' come funziona, per chi magari non si potrà più permettere il pellet, a 12 euro al sacco, e voleva provare il nocciolino, quindi vi ho parlato delle modifiche da fare al bracere, delle modifiche da fare alla caldaia o alla stufa, per quanto riguarda i parametri di combustione. Mi sono poi spinto sulla pulizia della caldaia pellet, utilizzata a nocciolino, per farvi vedere la differenza di quanto sporca uno e quanto sporca l'altro, e poi mi sono lanciato in un volo pindarico, per quanto riguarda il test di varie biomasse, ovviamente naturali, dai semi di girasole al mais, al favino e quant'altro, e mi sono divertito, mi sono divertito perché, a prescindere dal discorso etico, che avevo già precisato in quel video lì, sono contrario a utilizzare queste biomasse, perché è cibo a tutti gli effetti, ma mi sono divertito perché ho fatto un sacco di esperienza. Questo mi ha permesso di entrare in contatto con persone che hanno la possibilità di avere a disposizione altri tipi di biomassa sempre naturali, parlo del bambù soprattutto, e nelle prossime settimane vedremo i test sia come cippato che udite udite come pellet di bambù. È una cosa sperimentale, la stiamo provando insieme, lui è il produttore, io sono un utilizzatore, e quindi divulgherò poi i risultati e traverete poi le conclusioni voi. Mi sono poi divertito a provare una stufetta pirolisi, la pirolisi è questo tipo di combustione in assenza di ossigeno che ha un'efficienza altissima, e anche questo argomento mi ha permesso di entrare in contatto con persone veramente preparate sull'argomento, che lo utilizzano già nelle proprie case, che mi hanno guidato su alcune scelte invece che su altre. Il bello di questo canale è che mi permette di entrare in contatto con persone che ne sanno più di me. Io comincio a parlare di un argomento, arrivano persone che gentilmente mi forniscono le loro competenze e questo permette a me di crescere dal punto di vista della mia cultura personale e a voi di fare un'esperienza che altrimenti non avreste fatto. Guardando poi i miei video, se siete interessati, potete prendere spunto e da lì partire per conto vostro, trasformare le mie idee, ampliarle. Ecco, e da questo punto di vista il canale si sta rivelando molto molto interessante, soprattutto adesso in inverno. Termino il discorso sulla biomassa, presentandovi soltanto questa mia piccola realizzazione, nulla di che ho rifatto il vaglio a un cippatore, sono passato da fori da 25 a fuori da 13 e questo mi ha permesso di realizzare un cippato molto piccolo, molto fine, chiamato cippatino in gergo e siamo quasi ai livelli del cippato per fare il pellet. Per fare il pellet occorre da 10, 8, 10 mm, questo è da 13. Questo cippato l'ho provato nella caldaia cippato ovviamente va abbastanza bene, non da solo ma mischiato al 50% con il pellet o con il nocciolino al mio caso, quindi potrebbe essere anche questa un'idea, se avete ramaglie, se avete un bosco e se avete la voglia di farlo potete benissimo prepararvi un po' di cippato, sappiate che ce ne vuole veramente tanto, però è un lavoro che si fa primavera e estate, quindi col tempo è una cosa che si può fare insomma e si può abbattere così la spesa del riscaldamento. La novità di quest'anno del 2022 è stata la mia collaborazione con alcune aziende, rivenditori, produttori per darmi la possibilità di provare piccoli utensili, per noi che non siamo professionisti del verde. Parlo di testine, tante ne ho provate proprio molte, parlo di utensili a batteria, elettrici in genere e forbici manuali e devo qui ringraziare innanzitutto le aziende con le quali ho collaborato quest'anno, ovvero le dico in ordine sparso AgriEuro, Bazzar Giusto, Officine Razzi, Emporio di Antonio o più qualche rivenditore su Aliexpress che mi hanno permesso di fare esperienza, torniamo al discorso di prima, un'esperienza, una crescita personale per quanto riguarda questi utensili e contemporaneamente mi hanno permesso di presentarvi alcuni prodotti che magari qualcuno di voi neanche conosceva, neanche sapeva l'esistenza, quindi vi ho fornito nel mio piccolo la possibilità di fare una scelta per un vostro eventuale acquisto o upgrade del vostro decespugliatore e quant'altro. Continuerò quindi, visto che è stata apprezzata come sezione, anche nel 2023 a collaborare con queste aziende, spero che se ne aggiungano altre, per cercare di presentarvi prodotti sempre nuovi e dall'utilizzo hobbistico o semi professionale. Io non sono un professionista del verde e quindi non mi cimento con utensili di carattere professionale. Ecco non è il mio campo e non è neanche lo scopo di questo canale insomma. Termino il video per quanto riguarda il canale YouTube parlandovi dei numeri che vi dicevo prima. Allora quest'anno abbiamo avuto 2.3 milioni di visualizzazioni che così sembra un numero enorme ma in realtà dovete sapere che il mio è un canale piccolo, ho meno di 30.000 iscritti. Quest'anno abbiamo avuto circa 8.500 iscritti, forse per fino anno arriveremo a 9.000 iscritti in più. Va bene così insomma io da quando è nato il canale che dico che questo non sarà mai un canale con tantissimi iscritti perché ci sono dietro una serie di motivazioni tecniche e non che non mi permettono di crescere come vorrei. Però fatto sta che faccio quello che mi piace, lo faccio quando voglio e a me interessa più il rapporto umano che si riesce a stabilire con voi. Per il resto mi interessa poco insomma non è il mio mestiere. Come vi dicevo non lo diventerà mai. Quindi finché mi diverto lo faccio, quando mi divertirò più smetterò di fare i video e lascerò ai posteri l'hardua sentenza. Quindi vi dicevo allora 2.3 milioni di visualizzazioni e circa 9.000 iscritti in più per fine anno rispetto allo scorso anno. Sono numeri che mi soddisfano, devo essere sincero, sono molto contento di questo. Quello che è cresciuto moltissimo quest'anno è stato il blog. Non me lo aspettavo perché ho visto adesso il risultato di Analytics. Tenete conto nel 2021 abbiamo avuto 191.000 utenti, nel 2022 556.000, quindi mezzo milione di utenti. Abbiamo praticamente più che raddoppiato l'utenza del blog, ma soprattutto le visualizzazioni di pagina siamo passati da mezzo milione a un milione e due circa. Questo veramente mi riempie di gioia perché a me piace più scrivere che fare video. Quindi vogliato da questi numeri sto provando alcuni collaboratori che possano darmi una mano sul blog, scrivere articoli, così da avere una costanza nella pubblicazione e quindi così ho la possibilità di fornirvi contenuti migliori. E quindi è uno step che aspettavo da un po'. In cuor mio io sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, quello magari di affidare qualche articolo a qualche collaboratore esterno. E questo momento sta arrivando, è arrivato, sto già provando e questo mi dà veramente tanta tanta soddisfazione. Chiudo questo video soltanto per ringraziarvi veramente tanto tanto di cuore per quello che avete fatto per me quest'anno, soprattutto per i consigli che mi avete dato sia sui vari social che qui su YouTube. Con alcuni di voi ci iscriviamo anche via mail perché ci sono degli approfondimenti su alcuni aspetti, come dicevo, tecnici, dai quali sto imparando tantissimo e li ringrazio in modo particolare. Vi auguro di passare un inverno al caldo per quanto possibile. Purtroppo il periodo che passiamo non è dei migliori. Questa frase mi sembra averla già detta l'anno scorsa dove uscivamo dalla pandemia. È un periodo veramente nel quale è dura per tutti. Sono due le frasi con cui vorrei congelarmi da voi. Una è che tra esseri umani ci si aiuta, la seconda è classica, visto che sono un appassionato. Auguro a tutti voi lunga vita e prosperità.